Ognuno di noi comunque abbia la capacità, la possibilità di capire quanto sia importante fare squadra. Lo fai in prima battuta con l'attrezzo, perché si palleggia quel pallone, lo si conosce, lo si sente, lo si tiene in mano, lo si accarezza, lo si violenta, lo si deforma, lo si indirizza, ma devi anche iniziare a conoscere l'archetta da tennis come mentalmente agisce, devi iniziare a conoscere il pedale del freno, la leva del cambio, è tutt'uno con te stesso, devi comprendere il motore, lo devi sentire, fai squadra con la macchina, devi capire esattamente il tuo cavallo come risponde, devi rispettare o devi amare, devi comunque cercare di trasferire attraverso movimenti, attraverso tensioni, attraverso comunque quello che è il tuo comando, una capacità di fare squadra con te stesso, quindi lo penso che sentire il bilanciere alla fine, anche se sembra che sia un qualcosa di inanimato, invece si piega, si flette, invece comunque te lo senti, devi cercare di essere tutt'uno con lui, quindi la capacità non è solamente quella di condividere all'interno di un team, di una squadra, ma cercare anche di andare oltre per fare in modo che le tue stesse sensazioni possano essere trasferite a quell'oggetto che sembra magari non animato, ma che ti dà la possibilità poi di comprendere quale sia la strada migliore per entrambe per arrivare al successo che va ricercato con questi tipi di modalità, tutti i giorni, pian pianino, non conoscendo se stessi, ma conoscendo ovviamente anche con chi si condivide questo tipo di percorso. Chi ha la possibilità di giocare in una squadra vivendolo questa cosa la capisce, magari non la capisce subito, magari quando si è giovani si inizia a lavorare in squadra senza magari rendersi conto di quello che sta succedendo, man mano che si cresce si capisce che invece è molto importante, ci sono delle cose che sono fondamentali, ciò significa non pensare solo a se stessi, ma pensare a se stessi nei confronti della squadra, perché questo alla fine porta a, se ci si toglie da, insomma, un po' da protagonisti almeno in alcune cose, perché è una delle cose più difficili del mondo, perché anche in una squadra chiunque vuole essere il protagonista, vuole essere il primo, è molto complicato non esserlo, perché questo bisogna dirlo, però se si riesce a capire, se si riesce a vivere con l'aiuto di un allenatore, con l'aiuto ovviamente anche di chi sta intorno, delle persone più grandi, degli altri un po' più maturi, allora si scopre che le potenzialità di crescita sono grandissime, che si vince di più, che si hanno dei rapporti più belli con gli altri, ci sono delle amicizie più profonde, perché danno le cose che poi si riceve, però questo si vive, si scopre, diciamo, con l'esperienza, si scopre vivendo. La mia esperienza è per ricondurre un concetto di sfida, io ho iniziato a giocare molto tardi a pallavolo, ho imparato a scuola grazie al mio all'issente di edizione fisica, prima giocavo a tennis, per cui mi vuoto un mondo completamente diverso, il primo anno per fare questo campionato interregionale è stato proprio in quinta, prima della maturità e saltai l'ultimo compito di elettronica industriale, andandolo a chiedere al prof, al prof guardi, devo rappresentare la mia regione, devo andare a giocare, salto quel compito perché il venerdì dobbiamo essere a giocare questa partita, lui se lo leggo al dito, mi ha miso all'esame con insufficienza, ok? Io ritornai, appena ho scoperto questo, mi ha dato la possibilità di recuperare con l'integrazione orale, mi presentai con le due materie che normalmente presentano tutti i secchioni, perché lo sfidavi? L'elettronica generale è l'industria, no, lei non può farlo, lei non può farlo perché è stato messo in esame con 5, qual è il problema? Ho sono andato avanti, ho fatto tutte quante i design di maturità, quando sono stato interrogato mi ha dato una, presente alla lavagna, si chiamava Trasformata di Fourier, la devi trasformare esclusamente andando a scrivere quattro pagine, no, di Trasformata, lui mi bloccò, questo lo sappiamo, lo sappiamo bene, me la spiega parole, malparole. Questo professore, invece comunque di darmi le opportunità, ha cercato di schiacciarmi, di continuare a mettermi i bastoni tra le ruote perché non poteva sopportare di aver avuto un affronto, ok? ma comunicato prima da parte di un suo studente. Lì ulteriormente accettai questa sfida e portai avanti in ogni caso, mette l'esame in maturità. Uscì con un 52 su 60, fece comunque una grandissima prova, quindi spero proprio che questo tipo di opportunità non venga mai ad essere riproposta dai ragazzi che ci sacrificano che hanno la possibilità di avere poche ore a disposizione per studiare, devono essere di qualità ma che debbano avere l'opportunità di portare avanti quella passione, quei sogni che devono comunque poi un domani creare prima l'individuo e quindi saper accettare queste sfide con un bilanciere, con una macchina, con un cavallo, con uno dei compagni, ma anche ovviamente, si spera, con tutti quanti metti a disposizione per crescere e soprattutto consolidare la propria personalità. Difficile farlo a 17 anni, 18 anni, quindi a maggior ragione si spera che gli insegnanti, non solo dell'educazione fisica, ma gli insegnanti della scuola capiscono questo e diranno veramente l'opportunità ai ragazzi che fanno sport nella scuola di poter credere e l'inclusione dell'autoroso.